Vai. Ringrazio Filippo Taddei, responsabile dell'economia e del lavoro del Partito Democratico, di essere qui con me oggi per l'appello finale per il sindaco Merola e il Consiglio Comunale di Bologna e per la lista di centrosinistra per Santo Stefano. Siamo nella sede del circolo PD perché la politica deve riacquistare il suo ruolo e questo è possibile solo eleggendo persone oneste, capaci e appassionate. Filippo, perché bisogna votare PD e lista di centrosinistra per Santo Stefano? Perché domenica abbiamo una doppia opportunità, di continuare il lavoro egregio che è stato fatto a livello di amministrazione comunale, votando la lista del Partito Democratico e quindi il candidato sindaco per la riconferma, Virginio Merola e soprattutto di poter cambiare anche nel nostro quartiere, nel quartiere Santo Stefano e quindi domenica andate a votare PD, votate PD sia al Consiglio Comunale che al Consiglio di Quartiere perché il vostro voto vale doppio, per continuare quello che c'è di buono e per cambiare quello che si può migliorare. Non perdete questa occasione.